Proprio in queste ore la Regione Piemonte ha dichiarato lo Stato di massima attenzione nei confronti degli incendi. Ed è proprio in questi momenti che noi apprezziamo il valore di presidio volontario dei nostri amministratori locali. I sindaci sono attivi H24 e lo sono al fianco delle autorità preposte e al fianco di tutti quei volontari che stanno in questo momento lavorando sui territori dove divampano gli incendi. E allora faccio un appello accorato a tutti voi. State al fianco dei vostri sindaci. Aiutateci segnalando ogni pericolo, ogni rischio a difendere il nostro territorio.